Questo bando è rivolto agli operatori commerciali, che sono coloro che forse a fronte dei blocchi del traffico più disagi hanno subito e stanno subendo. L'obiettivo è quello di sostenere il cambio di veicoli commerciali dalle piccole dimensioni a quelle più grandi. Vogliamo far abbandonare il diesel che è ormai creato nell'accezione comune essere una delle cause di generazione del particolato che inquina le nostre città. E quindi stiamo promuovendo con una serie di finanziamenti che arrivano fino a 10.000 euro secondo la dimensione del veicolo sostituito. Sostituzione di mezzi con rottamazione per cui tutti coloro che hanno un vecchio mezzo commerciale possono accedere a questo bando. E' un bando che vede la collaborazione tra Regione Piemonte e Union Camere, reso molto molto semplice con l'utilizzo di piattaforme informatiche, di quelle in uso normalmente per tutti gli operatori commerciali, quindi un canale anche facile, possibilità di acquistare veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano, gas naturale. E quindi un deciso salto di qualità nell'impatto che gli operatori commerciali con la loro attività possono generare sulla qualità dell'aria. Sì, sintetico.